Allora qui è iniziato il video, allora dimmi te, commentate, vai Ale, cosa guardiamo da qui? Il mare. Allora qui vedo che il mare mi sembra con le onde abbastanza piccole da qui, ma forse saranno un po' più grosse dalla spiaggia. Poi quando si alzerà il vento... Ma che vento è ora? Da dove viene il vento? In Tramontana? Beh, più o meno. Sta iniziando a girare dal nord-ovest quasi. Dal nord-ovest quindi? Viene Maestrali. Ah, ho capito. Bene, quindi, quindi, quindi. Guardiamo bene il mare, si vedono. Ora si fa anche un ingrandimento. Aspetta, che è andato un po' sfocato. Eccoci, Ale. Guardiamo un po', vedi che c'è? Che c'è? C'è. Aspetta, ho sbagliato io. Ci sono delle raffiche di vento e dei punti dove non c'è vento. Vedi? No. Eh, dove fa più specchio il mare. Dove fa più specchio? Dove c'è più specchio e c'è da quel punto. Esatto. In questo caso sono le raffiche. E le raffiche sono più di Maestrale. E da me dove c'è la schiuma non c'è tanto vento. E ci sono quelle onde. Qui sotto, dici? Eh, vedrai, qui sotto ce n'è meno. Comunque guarda, Ale. Vieni a vedere. Guardala, guardando verso nord, il Maestrale è arrivato. Già. Hai visto? Hai visto l'isola laggiù? Che isola è? Boh, dici te. Posso essere l'isola d'Elba? No. No. Da qui si vede la gorgona. La gorgona? Eh, sì. Quella è la gorgona. Ti posso dire una cosa? Cioè, io a me vedo un enorme vortice. Quello là giù. Un enorme vortice? Sì. Ma dove lo vedi il vortice? Se non mi hai visto troppi... Qual è il tuo cartone preferito, Ale? Sì. Mi stai diventando un gormita in questi giorni. Meno male ci sono la sera e ti si fanno vedere solo la sera. Eh? Sei un super gormita. Ascia di vento. Eh, sì. Ascia di vento. Cosa fai? Il vento è di Maestrale? Vediamo un po'. Ci si può allontanare. Siamo ancora a 70 metri da casa. E i cassonetti sono vicino a noi, eh? Non stiamo trasgredendo, ragazzi. Guardiamo un po'. Non è caldo, così. Io a caldi... Ale, mi smu... Mi smu... Mi levi i pantaloni. Ti alganci sempre qui. Eh? E che dici? Con cosa giocavi ora? Ascia di vento di Elio. No, in casa, in giardino. Ancora gormiti. Un ciavevi lindoboard. Oh, giusto. E quando sei lì sopra cosa ti sembra di fare, Ciccio? Surf. Ah. F. Kite. Snowkite. E snowbird. Ah, bene. Eh, caro Umberto, quando si potrà tornare in acqua? Questo bisogna chiederlo. Non a me. Ma va a finire il video? No, lo sto ancora facendo. Perché ci sono tante persone che ci stanno guardando. Che vuol dire? Eh, un video in diretta. Ah, in diretta. Come essere in televisione, praticamente. Sono in televisione? Sì, sei in televisione. Sì. Avete domande per il mio figliolo? Cosa? Oh, mamma. Cado, ma io mi resta da televisione. Sì, sì, se voglia te. Quella qualcuno ti farà qualche domanda. Eh? Intanto, chi sei te? Mi chiamo Alessio. Quanti anni hai? Sei. Benissimo. Che sport fai? Beh, io ne faccio un po' tipo taekwondo, snowboard e snowboard. E sto facendo... E sto imparando anche il calcio. E il calcio? Ma il calcio si gioia e te, eh? Sì, ma è comunque uno sport. Certo. E poi... Intanto, nel frattempo, vi vedete il mare di sfondo, eh? E poi cosa... Quest'estate cosa volevi andare a provare? Barca a vela. Però in realtà già ci sei stato un po'. Sì. Ma... Ha detto che adesso posso pagare quella scuola. Sì, la puoi fare la scuola a vela, certo. Da sei anni compiuti in poi puoi venire al circolo velico Pietrabianca. Davvero? Eh sì. E fare scuola con gli altri bimbi. Ma adesso è anche sulla nostra televisione quello. Questo c'è anche mamma che ci sta vedendo. A casa! Mamma ci spia da casa, non toccare in terra. Allora, Massimo ci chiede, ti chiede, ma il mare è mosso o calmo? Guarda un po', vai. Abbastanza... Abbastanza? Da qui sembra abbastanza calmo, perché siamo lontani. Quindi vediamo le onde piccole. Ma forse sarebbero un po' più grosse. Ci sta. Specialmente se il maestrale aumenta. E ce la fa arrivare bene fino a qua. La raffica diventa più grossa, quella raffica laggiù. Lo sai come si fa a sentire se il maestrale entrerà? No. Oltre a vederla arrivare dal mare invece che da terra dove arrivava ora, che è la cosa più facile, senterai la temperatura che cambia, diventa più freddo. Appena senti che l'aria diventa più fresca, probabilmente è perché sta arrivando il maestrale. Beh, a me sembra un pochino più piacina. Beh, a volte arriva qualche raffica un po' più freschina, perché lo vedi, è lì. Io non voglio dare televisione... Eh, ci sei, ci sei. Aiuta! Dove vai? Si torna a casa? Si, si ritorna a casa. Stop! Cosa? Allora devi salutare tutti se si ritorna a casa. Ciao a tutti! Ci vediamo o più tardi o domani, vero? Ci vediamo più tardi o domani. Magari più tardi per il tramonto, veniamo qui e rifacciamo un altro video e salutiamo tutti. Va bene? Magari qui per il tramonto. Non devi ripetere. Ci si viene o no? Sì! Vai, perfetto. Ciao ciao! Ciao!